Per noi era una persona, un amico, essendo io rappresentante della Casa Reale di Montenegro, avevano la Bruzia che era la vicina Elena, ricordiamoci la prima donna a essere ispettore della Croce Rossa ed essere stata a lei la soccorridrice del terremoto di Messina. Dai reali ai torinesi l'addio in Duomo a Vittorio Emanuele, l'ultimo principe di Casa Savoia, il figlio Emanuele Filiberto. Emanuele Filiberto. Emanuele Filiberto. Emanuele Filiberto. Emanuele Filiberto. Emanuele Filiberto. Per noi era una persona, un amico, essendo io rappresentante della Casa Reale di Montenegro, avevano la Bruzia che era la vicina Elena, ricordiamoci la prima donna a essere ispettore della Croce Rossa ed essere stata a lei la soccorridrice del terremoto di Messina.